Loro, e vogliono fare pubblicità anche della direzione Volevo dire che la prossima volta saremo al motoro Casamontà Saremo i compagnonti, faremo l'apertura, giusto? A un gruppo mitico degli anni Ottaco, giusto? Di Scammer, i Pussi, usciremo con un pezzo come Pier E poi apriremo, anzi ci apriremo anche con noi Ok, e allora prossima volta il 21 anno l'alto siamo al motoro Casamontà E al 5 di aprile siamo in duno all'Archie E' sempre un'Archie E' sempre un'Archie Il biglietto si fa così Ok, prossimo grado l'alto Casamontà in battaglia di un bar E l'ha dato a quella, a tutte quelle ma Ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone E poi ci sono tutti i nostri stessi, tutta la canzone Grazie per la visione!